conto vera perché giusta perché non è farina nel tuo sacco allora succede una cosa italiana per essere gentile ed educato faccio chiedere alla nostra ospite che tra pochi istanti vi presenteremo se c'è una canzone che le piace una cantante che le piace e che cosa succede in mezzo a un milione di canzoni che abbiamo nel nostro archivio ci chiede una canzone che non c'è sì e io gli ho detto guarda che di anna abbiamo solo 30 gradi e ha fatto una faccia ma in un secondo l'abbiamo recuperata la canzone si chiama cica italiana la cica italiana che è con noi si chiama miriam stilla buongiorno buongiorno è un nome familiare agli appassionati di pallavolo via quelli che ad agosto hanno guardato le olimpiadi esatto eh sì allora benvenuta grazie grazie per aver messo la canzone sei acceso il microfono e ti blocchi no no anzi perché sono qui a chiederti ritornello di cica italiana prego vai allora vai sogna l'america però il dinero mancava nelle tasche di sg insegna l'america però nessuno la chiama ma dividi questa passione musicale con le altre ragazze della squadra o ognuno c'ha la sua devo essere onesta sì più o meno ero io che rompevo un po le scatole quest'estate con la storia del bad beach con anna e tutto era uscita 30 gradi e quindi ho un po' rotto le scatole adesso mi tengo un po questo però interessante questa cosa perché verasco che è il ct della nazionale non è che abbia molto diciamo non è che veda molto di buon occhio l'uso del telefono specialmente il mondo dei social ve lo ha proibito o consigliato no lui lo ha consigliato per come è giusto che sia nel senso sa che le nostre vite vanno comunque avanti e facciamo le nostre cose anche tramite social ci ha consigliato magari di usarlo leggermente meno e ognuno di noi quel buon senso l'ho fatto tu lo usi tanto ma allora quando sono in ritiro prima chiudevo i social ok proprio zero non guardavo niente un po difficile quindi cosa ho fatto iniziato a seguire solo cose di cani cose divertenti e basta che non fanno male a nessuno quello no quello divertente ci puoi raccontare la settimana tipo la tua settimana tipo cosa fai quanti allenamenti quante partite allora allenamento partiamo dal lunedì fino alla domenica lunedì giorno libero no no si parte bene no bella vita vabbè poi adesso vediamo se è bella vita il martedì ci sono i pesi più tecnica vale a dire allenamento solleviamo la ghisa e poi la palla scusami a che ora mattina pomeriggio mattina alle nove dalle nove fino a mezzogiorno e mezza poi pomeriggio libero niente che libero pomeriggio palla pomeriggio palla dalle tre e mezza alle sei e mezza quali sono i distretti che rinforzate cioè quadricipiti braccia allora gambe per forza quadricipiti importanti polpacci ma diciamo tutta la gamba in generale diciamo che di genetica è un po' difficile cioè ce li ho piccolini buono lì bravo che non fai neanche il giocatore di pallavolo le gambe e poi le spalle la spalla soprattutto per il movimento d'attacco qual è la parte del corpo di un giocatore di pallavolo che è più soggetto a infortuni ginocchia e ginocchia davvero per quello che avete quelle ginocchia ginocchia e caviglia sì senti quelle faccio una domanda proprio da radio dj puzzano sempre tantissimo le ginocchiere già di morte di morto di morto a me dipende devi devi alternarle eravamo solo a martedì io volevo andare anche a mercoledì scusa sempre martedì sempre per ghisa anche martedì martedì mattina mercoledì scusa mercoledì mercoledì mattina può essere libero o tecnica o tecnica quindi la mattina vai lì fai qualcosa di più specifico magari adesso vi dico la ricezione ok ok una cosa un po più tecnica voi non avete quelle specie di macchine che sparano palle avete la macchina che spara il pallone come nel tennis l'allenatore mette il pallone arriva a una velocità caspita a volte esagerano a volte ti beccano è certo è pericoloso quella è veramente pericolosa forse una cosa che non sai che lei di ruolo è schiacciatrice ah ok quindi attenzione attenzione sì 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 quindi sei una di quelle anche che fa finta perché a me colpisce sempre quella cosa lì che nel a rete certo che una salta uno fa finta è centrale quello quello è centrale però scusa piano si può dire una cosa dimmi un po' il ruolo di me sì perché devi farla finta ma se sempre fa finta quello davanti sa capito però cioè fossi io mi metto un po' al suo posto ho capito ma il centrale fa sempre il centrale non può far sempre la finta seguici e io vi seguo se dovete seguire voi dimmi no però se fa sempre finta quello davanti dice tanto fa finta non salto neanche lo so però tante volte lo fanno spesso durante la partita può capitare che magari dieci volte fa finta e una tira però vuoi mettere dieci volte fa finta no no certo una rottura di palle certo 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 vabbè fa niente e si allena a fare i salti questo qua tutta la settimana no non è così qualche volta però tocca la cioè la tocca non la palla però vi dovete anche allenare a fare quella roba lì a saltare proprio vabbè quello diciamo che lo fai vabbè io sì non c'è un allenamento per i salti no principalmente polpacci no una volta che hai forzato il polpaccio salti no non ci sono esercizi proprio per imparare a saltare quanto è alta la rete 224 224 tu ci arrivi con la mano da quanto sei alto 1 80 1 81 1 sei piccola rispetto alla media sì però schiacci lo stesso salto un po' gli schiacci in faccia no magari no magari c'è no no la violenza se ti avete una squadra multietnica multinazionale nel senso che ci sono tanti giocatori di ogni prove quante sono le italiane di origine italiana a parte che tu lo sei e qui ci infiliamo nelle classiche polemiche no c'è qua un po' difficile però diciamo che con genitori di origini non italiane 4 5 saremo 4 sì i tuoi di dove erano a costa lavorio si è stata da piccola avevo 8 anni l'ultima volta pochi ricordi però vabbè poi tu sei giovane quindi saranno giovani anche loro 68 mio babbo sì ne ha o è del è del 68 è un bambino la mia età ascoltami volevo sapere se capita ma secondo me sì che dall'altra parte della rete così anche già subito anche prima di iniziare sì sì tanto vi facciamo il culo oggi cioè un po' di dissing il dissing no non c'è non può non c'è allora si può capita che qualcuno guardi male l'altra parte oppure che ti avvi c'è sì ma raramente poca roba perché no 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 nel calcio c'è questa roba qua oggi non vedi la porta no nel calcio c'è contatto c'è contatto fisico allora non la rete può capitare se magari di là c'è un'amica di qua non passi può capitare quell'amica sì che ti prendi in giro però è più ironico che aggressivo insomma sì non è aggressivo quelle robe lì non no bello mi piace mi sa che ti teniamo qua un paio di giorni saltano gli allenamenti di martedì di mercoledì la ghisa la ghisa sollevi noi invece della ghisa allora questa è una canzone di una decina di anni fa è una canzone che ci aveva chiesto quando ci è venuto a trovare qui in studio pensa coby bryant perché era una canzone che piacevano molto ai suoi figli siccome ho letto che il vostro cagnolino l'avete battezzato coby cioè immagino per la passione anche del tuo fidanzato allora vi ha munito le cose e ci è venuta voglia di riascoltarla questa si chiama pump it up kids foster the people sono due squadre fortissime però loro hanno ottenuto più più risultati poi a volte sai una palla che entra una palla che esce cambia tutta la tua vita però meritavano meritavano anche loro forse sono stati un po sfortunati ma ci sono state magari altre stati in cui loro hanno fatto veramente molto bene perché sono i campioni del mondo in carica e noi no guardate a microfoni spenti ho detto no sono scarsi non è vero non è vero ti sei fidanzata con un giocatore di basket giusto ma è perché volevi un altro sport o perché la vita ha scelto per te bravissima la vita ha scelto per me perché sempre c'è una leggenda dove dicono ah no fate lo stesso lavoro meglio di no tornatevi a casa gli stessi guai gli atleti sai come sono e alla fine vabbè mi sono innamorata quindi ma quando l'hai visto lo conoscevi già no e quando l'hai visto hai detto lo odiavo perché tipo io sono andata a parlargli in maniera carina perché io facevo da spalla una mia amica in quel momento che era lei che voleva conoscerlo no voleva conoscere un altro quindi ho detto vabbè allora vado a parlare io con gli altri due è solo che alessandro mentre io gli parlavo guardava in pista altre ragazze e io tipo ma tutto bene are you serious cioè ok e quindi lì ci sono rimasta malissimo ha detto ma ma questo qua sì certo certo e lui ha detto che un due di picche prima ancora di cominciare a giocare a carte no però posso dire diciamo la tutta come no lui mi voleva già conoscere la settimana prima e visto che io non l'avevo salutato lui se ne era legata al dito senti me e lui conosceva te quindi sapeva chi fossi perché lei è più famosa di lui perché lei è più famosa di lui senti un attimo ma tu quando hai visto lui hai detto quello lì è un atleta una vaga idea sapevi anche lui sì sapevo perché a noi nani interessa sempre l'altezza quant'è alto lui è un pochettino più alto un po' più alto che ruolo gioca 87 guardia no play play vabbè allora 87 va bene sentite questo rumore sembra che io abbia appoggiato una pistola sul banco in realtà pesa molto più di una pistola ed è la medaglia olimpica di miriam la bellezza di questa cosa è molto bella è molto bella è molto emozionante devo dire tenerla in mano molto emozionante pesantissima quanto pesa non lo sai te ne hai fatte due lacrime quando te l'hanno consigliato due ne faccio ancora ho pianto sì ho pianto tanto eppure tu hai vinto tanto nella tua carriera però le olimpiadi sono un'altra cosa era il sogno della mia vita era il sogno della mia vita una promessa mantenuta tante cose sta medaglia qui quindi sì ho pianto sì poi voi avete fatto un percorso dritto proprio come una formula 1 cioè uno schiacciassassi sì è stato tutto cioè come doveva andare sì è brutto dire in discesa perché non è stato così certo però non me lo aspettavo e lo abbiamo realizzato alla fine che è stato quasi semplice sulla carta con chi avete vinto la finale abbiamo vinto con gli stati uniti ma abbiamo perso solo un set in tutto il tragitto tutto il tragitto c'è 3-0 3-0 senti chi sono la chi ha la tradizione migliore in generale così nella volley chi sono oltre all'italia togli l'italia c'è il brasile c'è nella mia testa la turchia l'anno scorso la squadra veramente difficile da battere la turchia c'è uno squadrone incredibile diciamo che i paesi con giocatori importanti ce ne sono ogni anno aumentano la concorrenza aumenta non so se tu sai rispondere a questa domanda quanto costa avere una squadra di club non lo sai deve comprare uno no 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 mi chiedo no ma figurati comunque pesa 529 grammi un po più di mezzo chilo soltanto 6 grammi sono d'oro vero il resto è una lega insomma che lo include però insomma il valore è un valore simbolico io sono preoccupato per lei io che c'ho la medaglia dell'ambrogino che è grande così e la nascondo figurarsi una medaglia come questa che ricordo hai se tu chiudi gli occhi e pensi alle olimpiadi quali sono i primi flash che ti vengono? scusami ma mettite l'accordo ma no ma mettite l'accordo no 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 cosa si fa no clara no è l'esa maestà secondo me non si può no no non ho il diritto di no puoi metterla no davvero per me puoi metterla no ma mi sembrerebbe di essere rispettoso no no io ti do il permesso dai l'esempio secondo me mi viene l'ascogliose me taglia me taglia no 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 non la faccio cadere oh adesso fai la domanda forza ti sta molto bene se fanno le olimpiadi per la terza età possiamo andare ma come no voglio sapere quali sono le prime cose le prime fotografie i primi flash che ti vengono sicuramente l'abbraccio con la squadra alla fine e il papà il papà e il mio ragazzo quando sono andata mio padre è sceso non si sa come è sceso e anche il mio ragazzo che sta bene a tutti come la metti stai scogliosi pesa ma tantissime devo dire ce l'hai il manifesto che ti davano quello se l'hai preso papà subito almeno avete diviso la medaglia gli ho detto quella no quella me la tengo io che di solito gli do le medaglie che vinco però questa no e boh emozionante e tutta l'esperienza invece di Parigi come è stata? allora noi non abbiamo vissuto nel nel villaggio no abbiamo vissuto fuori niente letto di cartone niente letto di cartone e aria condizionata come fai a mettere su un letto di cartone una ragazzona così no no ma poverini altri a voi aria condizionata perché gli altri no ci sono sfortune sfortune diciamo che siamo stati bene e anche di testa l'abbiamo vissuta anche molto tranquille Julio ci ha dato la disponibilità che ne so un giorno sono uscita con mia cugina che era lì e sono stata tranquilla gliel'hai chiesto prima di uscire è cattivo Julio? no assolutamente c'è cattivo è uno che pretende molto? allora pretende il giusto quello che poteva pretendere da una squadra che adesso ha una medaglia d'oro al collo certo ma siamo grandi comunque 29 anni e cosa vi ha detto prima di entrare in campo prima della finale? ma la cosa che lui a me ha colpito molto di quello che ci ha detto è stato il non dovevamo strafare cioè non c'è niente di speciale che devi fare devi fare il tuo quello che hai sempre fatto non è che perché è una finale devi aggiungere o devi strafare basico il tuo e ricordarci che già era un traguardo il fatto di arrivare a medaglia certo perché l'Italia non aveva mai mai nella storia della palla a volo ottenuto una medaglia ai giochi olimpici solo quinti posti certo quindi già per noi ci ha tolto molta pressione perché ci ha detto questo è già qualcosa e dobbiamo essere felici per quello che abbiamo poi se riusciamo a fare qualcosa in più meglio e questo è stato cioè per me è bellissimo ti toglie un po' dell'ansia che inevitabilmente hai in un momento sì perché già da sola ti metti l'ansia oddio il sogno della mia vita ho costruito la mia vita se in più l'allenatore ti mette pressione è finita certo senti l'hai conosciuta Anna Pepe? Anna non l'è ancora conosciuta ancora no la prossima volta dobbiamo organizzare Anna contattami certo ci pensiamo a noi ci pensiamo a noi ci pensiamo a noi senti è stato molto bello averti con noi grazie tanti complimenti aspetta aspetta io ho portato la mia magliettina wow vabbè questa è mia però non so cioè questa è proprio la mia mia non so se questa domani ci presentiamo in canottiera quindi sì 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 con la pancia da birra io almeno e poi questa grande grande grazie 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 per voi ragazzi nel nostro museo dai grazie grazie un pensierino grazie per l'invito è stato un piacere per me le ragazze della pallavolo Miriam Miriam a domani grazie complimenti ancora tanti baci ciao ciao ciao